L'Oasi del Gusto è un progetto nato per poter arrivare direttamente ai clienti. Un progetto dove cerchiamo di far conoscere chi siamo, di far conoscere i nostri valori e di poter trasmettere attraverso tutto ciò che si troverà all'interno dell'Oasi del Gusto, dal museo di impresa alle degustazioni, di far conoscere veramente chi siamo. È importante continuare a rimettersi in gioco e continuare a riproporsi in modo sempre nuovo. L'unità produttiva nuova è nata proprio per avere gli spazi giusti per poter lavorare ed avere un ottimo prodotto. L'Oasi del Gusto